bello a tutti ragazzi bentornati sul canale l'aston siamo di nuovo finalmente e ancora su battlefield 4 siamo col secondo video ma vorrei farne molti 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 di più abbiamo scaricato dragon valley operation autobrecker le ho provate le ho anche registrate ma ho avuto un cazzo di problema con legato ho fatto una sarei dire una bella cazzata perché nella registrazione ho sbattatamente e lo so stupidamente messo il jack delle cuffie sul joystick anziché sul monitor quindi l'audio non mi veniva registrato e non me ne rendevo conto perché perché mettendo il jack sul da tre e mezzo sul joystick che avendo l'impostazione messa su cioè l'ascolto di non solo la chat ma di tutto l'audio non veniva trasmesso sulla hdmi quindi non veniva registrato da legato questo è successo anche con fifa che poi vabbè affronteremo a parte ho fatto qualche video non so magari se lo metterò comunque dopo vedremo comunque sia un video che è stato già registrato prima forse lo porterò dopo forse non lo metterò per niente comunque abbiamo provato dragon valley operation outbreak e le ultime mappe uscite devo dire che sono veramente divertenti adesso ci andiamo a fare un'altra partita vediamo quale quale partita fare adesso andiamo a vedere i browser mi casca all'occhio subito un non è fanatico un match a squadroni in dragon valley e direi di andarci subito visto che sono fino a 46 vabbè non ci importa andiamo a partecipare e siamo su dragon valley pronti sembra che assurdo il compagno in lontananza gli stava sopra la testa mi sembra non lo so mi confusa pronto vabbè scusate fra gallo non poterti rianimigliere ma colpo cos'era non credo una roba eh eh razzate qua ce ne stanno un botto mi sento solo aia che cazzo era ecco sta arrivando sta arrivando me lo trovo davanti adesso noo un per cento merda noo un per cento guarda quello guarda quello guarda cazzo fantastici bug guarda quanti provaci momenti è mortale è mortale cos'è che succede che succede cos'è successo E' davvero lì a sopra E' assistenza Uh dopo colpo Questa granatina Ho sparato a destra e a sinistra Dai, dai, dai No, ero sceso Mi ha preso lo spudo finale Pazzesco, clamoroso Andiamo No No No, no, a destra Che stava a fare sto giovinotto Lì dietro Ti fa bene Ma cazzo Quanto ci ho messo a sparargli Grazie amico mio Per Natale ti faccio il cesto Attenzione amici sotto Sono qui, stanno qui Eh, tre ore per ricaricare Riproviamo ragazzi Dobbiamo stare vicino Mmm, c'è un cecchino Quello mi ha sembrato sicuro Ecco, c'è un'altra No Non ci posso credere Era già ferito Ne ha uccisi due Ok Contro le leggi della fisica Intanto spavano quelle due Oh che caspita succede Perché sta finendo la partita Ah c'è bisogno di arrivare a 400 Ok Vabbè E' andata un po' maluccio Però abbiamo vinto Andiamo alla prossima partita Ok ragazzi Siamo pronti a partire Qui ammassati come dei salami Si salve Andiamo a Andiamo in fiondo qua dietro Vabbè Prende via le spalle Vediamo se ci riusciamo Ah dietro Merda Non ho visto proprio Merda Continuo per te Porca troia Ti hanno superata Vuolete farmi incazzare Torniamo in testa Ecco il pronto soccorso Eccolo qua Eccolo qua Ah merda Ha saltato Maurizio Mi hai fregato Mi hai fregato la grande Quella pistoletta Attenzione alle spalle Che siamo scoperti Porca troia Sono precipitato Sopra la claymore Tipo Non lo so Sono un coglione Sopra la Sopra�를 Sopra Sopra Ok, non è vero, non è vero. Non è morto Sì, grandissimo Grazie per il fumogeno Ok, ricevuto Adesso cambiamo Mettiamo il nostro SAR Stabilissimo E' la granata che piove dal cielo Che non è sempre la mia Raccoglilo Inizio nella testa, giovane Ehi Raccoglilo 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 Siamo andati Forza, eliminiamo gli altri I miei amici Ecco il chismetico No, l'ultimo Perda L'avevo fatto una gran cosa L'hai preso? L'hai preso il giovane? Queste assistenze Maledette Le vuoi tenere? Ancora? Mamma mia Che volo Sto mortaio Maledetto Forza, signorina del cazzo Andiamo Non siamo più in testa Il medico per te Mamma mia Grazie 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 mille Anche tu va a rifarci Sto mortato Salve Va bene Va bene Va bene così Grazie Adoro sti Va bene Va bene lo stesso Sti salvatori All'ultimo secondo Oh non lo so Dove stavo andando Ci ho provato Così Alla cazzo Mi ha ucciso uno dopo decenni Nooo Merda Pensavo c'avevo il compagno dietro che mi copriva E non lo so Ma è ucciso Allora vabbè Grazie Sì 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 Nooo, merda! Dai che sta finendo, quanto stiamo? 3.93 e 3.97, non ci posso dire, abbiamo perso Nooo, per due punti siamo andati sotto Va bene ragazzi, saltiamo un po' anche noi, eccoci lì Ci vediamo al prossimo video, qui da Battlefield 4 è tutto, dal canale di Lanston Ci vediamo al prossimo video, bella a tutti ragazzi Grazie 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 Grazie